salve cari amici ed amici ben trovati di nuovo qui il vostro sentenzione che vi augura un buon anno nuovo io circa due anni fa ho caricato un video un video tutorial di gastronomia cassareccia nel quale facevo vedere come si accendesse con sicurezza e piena sicurezza un forno a gas nello stesso periodo volevo fare altri tutorial del genere ma poi ho parlato di altre cose il video a tutt'oggi a più di 12.000 visualizzazioni quindi continuando per la serie sicurezza nella vostra cucina voglio fare un video tutorial che lo titolerò come accendere i fornelli anzi come accenderli come smontarli come pulirli al momento no perché sono già puliti forse farò anche un video come pulire i fornelli a gas però per il momento vediamoci questo video cioè giriamolo e voi lo potrete vedere come smontare ed accendere i fornelli a gas in una maniera sicura perché naturalmente se prima gli accendo e poi gli smonto mi scotto quindi 3 2 1 ecco a voi il video del giorno 3 2 1 ciac si gira vabbè bella introno un po intronata allora accendiamo la luce così magari c'è un bel riflesso la luce della campana di aspirazione perché stiamo di giorno allora il primo passo a seguire per dissemblare i fornelli e di togliere questa protezione che serve anche questa griglia per metterci le pentole i bollitori tutte queste cose come potete vedere è bella pesante qua questo serve per adattare la superficie d'appoggio alla caffetiera a bollitori piccoli a pentolini piccoli a tutto ciò che altrimenti non starebbe bene appoggiato e cadrebbe caffetiere soprattutto io l'uso per la caffetiera in questo piccolino qua e quindi togliamo la seconda protezione questo serve per potenziare il fuoco è consigliabile usarlo in una cozione prolungata per risparmiare gas perché questa maglia di metallo si si surriscalda e accumula calore e quindi si può mettere il fuoco al minimo perché in questo modo potenzia il calore è sconsigliabile invece metterlo in un in un fornello molto grande o mediano perché anche se lo metti al minimo ti darà troppo calore quindi questo serve per i fornelli piccoli e mediani quando la cozione è molto prolungata però devi fare attenzione perché gli da magari da un 10 a un 30 un 40 per cento di potenziale calorico in più che ti può mandare a mare mengo tutto quindi questo si usa per soprattutto quando io faccio il caffè lo metto al minimo poi protegge dal vento e si fa rapidamente soprattutto in estate rimuoviamo anche questo adesso vi faccio vedere fate attenzione a casa chiamate un tecnico esperto se non lo sapete fare per conto vostro perché più che il disarmo per lavare i pezzi che adesso sono puliti bisogna fare attenzione a come ricollocarli altrimenti ci sono fughe di gas soprattutto se i vostri fornelli non hanno un sistema di sicurezza che si spengono quando si spegne il gas allora rimuoviamo il primo pezzo e rimuoviamo il secondo come potete vedere come potrete vedere c'è isolato dalla ceramica scintillatore per l'accensione primo pezzo rimosso poi in un altro video vi farò vedere o forse in questo come pulire con efficacia la bocca d'uscita del gas che a volte si ottura perché il gas bruciando produce delle scorie qua passiamo a smontare il secondo pezzo passiamo a smontare il terzo pezzo e passiamo a smontare il quarto pezzo dicevo per pulire le bocche di erogazione del gas ci sono un commercio degli strumenti simili a degli aghi o potete usare anche come nel mio caso degli aghi dei comuni aghi da cucire come potete vedere cercando di non rovinare all'interno la bocca di erogazione del gas e rimuovendo quello che non fa uscire gas a volte invece è entrata dell'acqua quindi o è sufficiente accendere il fornello che si asciuga da solo per evaporazione oppure passarvi uno straccio perché a volte è uscita dalla pentola o dal bollitore del latte dell'acqua del brodo addirittura se si può vedere nel fondo di questa confezione c'è la siringa di una c'è l'ago di una siringa anche con un ago di siringa poi pulire la bocca di erogazione dei fornelletti per pulire i fornelletti poi utilizzare dei detergenti tipo in polvere o liquidi che puliscono anche i piatti ma se c'è mugre c'è calcare poi utilizzare in questo caso mi rendo conto che intorno ai fornelletti ci sarebbe da pulire un po ma non lo faccio adesso perché non ho del tempo come vedete c'è del calcare delle volte che esce l'acqua esce il brodo c'è un po di mugre ma lo pulirò in un'altra volta adesso inutile farvelo vedere ci sono dei prodotti in commercio che si chiamano metallo lucido queste altre cose qua no quindi potete passare delle pomate dei gel abrasivi fate attenzione a che non siano troppo abrasivi dipendendo anche dal fatto che i piani di cottura possono essere fatti di acciaio ma anche di un metallo satinato quindi se molto abrasivo il prodotto la crema può togliergli lucido può risultare troppo abrasivo in ogni caso leggete le istruzioni perché a volte il prodotto deve rimanere qualche minuto o qualche decina di minuti per reagire con lo sporco altre volte semplicemente basta strofinare e poi sciacquare con un panno umido quindi se troppo il tempo che sta a contatto con il metallo oltre a rimuovere il calcare il grasso il sudiciume può anche rovinare esteticamente il piano di cozione certo in questo caso vediamo che le aree sporche stanno tutte intorno a dove copre il fornello quindi se qua si macchia non succede nulla ma se si macchia tutto intorno al fornello allora si vede quindi qua magari poi anche andargli pesante con la pulizia però qua intorno devi scegliere un prodotto che non sia troppo aggressivo oppure puoi utilizzare acqua e candeggina o ci sono dei video che dicono come pulire con acqua bicarbonato bicarbonato e aceto di sicuro acqua calda con una giusta dose di aceto ti aiuta a rimuovere il calcare perché incluso quando hai calcare nel bollitore basta bollire l'acqua con uno spruzzo di aceto ed il calcare viene via quindi acqua calda e aceto ti possono aiutare a rimuovere la maggior parte dello sporco senza consumare in prodotti chimici in detergenti o magari in creme per pulire forni e fornelli questa tua scelta adesso dobbiamo fare ciò che abbiamo disfatto come riarmare una cucina a gas i suoi fornelli seguiamo gli stessi passi però al contrario mi sto filmando con il mio cellulare nokia asha 302 cioè mio il cellulare che gli ho regalato a mia madre però che non si porta mai secco non si porta mai con sé e non ci chiama quasi mai nessuno quindi non mi interromperà nessuno scorciandomi le balle con una telefonata perché con la filmatrice sarebbe più complesso ecco qua abbiamo messo i fornelletti al suo posto adesso mettiamo il le bassi come vi dicevo questo questa crocetta serve ad adattare il supporto nel caso abbiamo degli oggetti che siano molto piccoli per potersi leggere chiaramente non considero nulla in una tazza perché si può rompere ma come vedete sta perfettamente in equilibrio senza quella crocetta starebbe in pieno fornellino quindi se avete un bollitore con un diametro molto piccolo non vi scordate di utilizzare adattatori così e soprattutto se il diametro è molto piccolo dell'oggetto che deve riscaldare qualcosa di utilizzare questo potenziatore perché così mettete il fuoco al minimo e non esce dalla base della caffetiera o del bollitore o della pentolina perché ci sono anche pentole a pressione molto piccole e adesso cari amici ed amici la prova del cuoco perdono la prova del fuoco passiamo a vedere come si accende con sicurezza il fornello a gas mi raccomando state attenti in casa se siete minori di età fatevi aiutare dai vostri genitori se siete maggiori e mentecati lo stesso e se vivete soli fate una polizia assicurativa perché i vostri parenti familiari e amici non devono pagare di tesca propria le indennizzazioni ai vicini di casa maneggiate il fuoco con cautela per chi vi può far male e vabbè passiamo a vedere la dimostrazione in questo caso i miei fornelli non hanno il meccanismo di sicurezza che gli spegne quando la fiamma si spegne perché sono dei fornelli economici partiamo io per forza devo tenere una mano occupata quindi metto il fornello al minimo e con il scintillatore adesso scrive chiudo come potete vedere si è acceso e il potenziatore di calore come vedete fa il suo lavoro potenzia la fiamma quindi se lo mettete al minimo adesso io zumo si potrà vedere come si riscalda anche la griglia i fili di ferro del potenziatore di calore questo potenzia il calore emanato dal fornello piccolo contribuendo anche a foto a fuoco al minimo nel qual caso la caffettiera sia piccola abbia una base piccola di riscaldarsi molto più rapidamente che se tu mettessi direttamente sul fornello la caffettiera piccola al minimo perché imprigiona nelle sue reti il potenziatore di calore il potenziometro il calore è erogato dal fornello poi c'è la base per il per la caffettiera per esempio monodosse e ideale ma anche per quella per tre perché questa base di questa base di cozione a la croce che è molto larga il buco nel mezzo quindi la caffettiera cadrebbe passiamo accendere un altro fornello come vedete si è acceso perfettamente è importante mettere i pezzi ben allineati al loro posto altrimenti c'è fuga di gas passiamo voi che siete curiosi volete vedere tutto il farò vedere grande da bello mi piace no vedere il fuoco ecco qua come si accendono i fornelli a gas non uso i fiammiferi sarebbe un'opzione ma già lo faccio vedere in un video come si accende con fiammiferi questo pratica sarebbe questa sarebbe la mia seconda edizione e vi faccio vedere proprio da vicino l'accensione del quarto fornelletto per la gioia di tutte e tutti voi mi raccomando usate il scintillatore nello stesso momento che aprite la valvola del gas io qua lo devo fare in un secondo tempo perché c'ho la mano occupata con il cellulare non gli accessi tutti simultaneamente perché sennò mi muoio di caldo e poi consumo troppo grassi bene questo è il tutto per oggi care amiche ed amici dopo tanto tempo vi ho fatto un altro video tutorial di gastronomia casareccia dedicato all'aspetto tecnico della cucina dopo che per molto tempo non facevo più un video di gastronomia casareccia su come cenare pranzare fare merenda colazione l'ultimo è stato un pranzo credo una cena però questa volta ho fatto un video che volevo fare già due anni fa quando ho fatto un video tutorial su come accendere un gas un forno a gas in questo video vi ho spiegato come smontare i fornelli come pulire il piano cottura e l'interno dei fornelli il buco di erogazione del gas e sotto i fornelli come rimontare i pezzi perché non ci siano fughe di gas come rimontare il supporto in tutto come accenderli e come ottimale il consumo di gas con quelle che servono per potenziare la fiamma e con gli adattatori per fare in modo che le caffetiere altri oggetti con base piccola che si appoggiano non cadano nel caso in cui il supporto abbia un buco grande che sia fatto per oggetti con una base grande prossimamente forse vi farò vedere un video su come pulire i forni per adesso vi lascio vi ringrazio di seguirmi mettete un like date un commento mettete fra i favoriti condividete e se lasciate un commento a questo video agli altri io voglio fare un sponsor time quindi più commenti ricevo più è probabile in qualche mio video o in tutti che se io supero il determinato numero di commentari faccia uno sponsor time per due o tre canali non mi va di farlo quindi innanzitutto commentate i miei video e poi metterò fra i primi della lista quelli che hanno commentato il maggior numero possibile di video miei e niente vi lascio qui il vostro santigiani spero che il video vi sia piaciuto dategli like condividete nelle reti sociali quando vedete fra amici parenti e familiari arrivederci ciao ed alla prossima ps anzi non post scrittum ma ps post filmatum io ho già fatto uno o due video non mi ricordo video tutorial di gastronomia casareccia non so se sono titolati così su come pulire le stoviglie e mi filmo mentre lavatiati e tutto il resto ma voglio fare un video più specifico in futuro vediamo se ci riesco perché in questo momento sono sporche ma non sempre sono sporche cioè su come pulire le teglie come vedete qua ce n'è una in processo di essere pulita lavata perché non è che ne puliamo il metallo ne puliamo lo sporco e c'è anche qua un vassoio da forno da forno con la f mi raccomando e che è sporco come potete ammirare e non solo c'è questo vassoio da fornello elettrico ma c'è anche un contenitore azzurro scuro con una spugnetta di metallo che è sporco anche lui quindi in un prossimo video io già vi ho fatto vedere in 12 video come lavare i piatti le stoviglie le pentole bicchieri tutto il resto potete andare a cercarvelo ma in un altro video vi farò vedere in specifico come pulire questi attrezzi o questi complementi di cucina la teglia del forno e sì le teglie le le ciotole del forno di metallo spero che il video lo possa fare al più presto perché sono passati due anni da quando vi ho fatto vedere come si accendeva il forno a gas e adesso ha fatto vi ho fatto vedere come si accendono i fornelli a gas e come si puliscono al loro interno esterno come si smontano come si montano bla 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 e in pochi settimane o mesi forse vi farò vedere e non in anni come si puliscono questi oggetti con liquido in polvere detergente liquido bicarbonato aceto quello che volete a mi raccomando se avete delle domande da farmi su questo video sul video o su qualsiasi altro video delle domande tecniche che ho fatto molti tutorial guardatevi la mia lista di riproduzione di tutorial tanto tutorial vari come tutorial di gastronomia casareccia fatemi delle domande e ditemi su cosa vorrete che io parli e io ne parlerò quindi ancora una volta vi saluto arrivederci e grazie per seguirmi grazie a tutti 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 grazie a tutti